Positivo al Covid, esce comunque di casa non rispettando la quarantena, ma viene sorpreso dai carabinieri e così finisce nei guai. E' successo in Casentino, dove alla luce della crescita dei casi, i militari della compagnia di Bibiena questo fine settimana sono scesi in campo non solo per il controllo del territorio, ma anche con un'attività specifica per contenere i contagi da Covid-19, che si è conclusa con una denuncia ed un assembramento sciolto con tanto di sanzioni. La denuncia riguarda un uomo di origine straniera positivo dopo il suo rientro in Italia. Essendo asintomatico ma non ancora negativizzato, ha comunque pensato di uscire di casa violando le prescrizioni. I militari nel corso dei servizi di controllo lo hanno così prontamente individuato, identificato e denunciato per la violazione del testo unico riguardante le leggi sanitarie. Con lui sono state identificate anche alcune persone le cui generalità sono state inviate all'Asla per i provvedimenti di sua competenza. Venerdì sera invece i militari hanno sorpreso un gruppo di circa 15 ragazzi di età compresa tra i 20 e 25 anni, in giro all'aperto ma senza distanziamento e con le mascherine non indossate. Tre di loro sono stati così sanzionati per il mancato uso dei dispositivi di protezione.